Andare in giro in Campers non è solo una cosa moderna, ma già 40-50 anni fa si viaggiava in Campers. Io sono con il signor Claudio che mi spiegherà oggi che cos'è il RIVARS. Il registro italiano, RIVARS è il registro italiano Veicoli Abitativi Recreazionali Storici, che custodisce e valorizza tutto quello che è stato costruito negli anni, anche anteguerra, per l'abitare viaggiando. Sono il presidente dell'associazione. Sono con Camillo, presidente di questa associazione. Signor Presidente, qual è lo scopo della vostra associazione? L'Act Italia, che è nata nel 1940, ha per scopo di valorizzare tutti i campeggiatori, prima tendisti, caravanisti e camperisti. Noi siamo alla difesa dei loro diritti, sia in campo civile, sia dal lato pratico e commerciale. Qual è, da un po' di anni fa a oggi, come è cambiato il mondo dei camperisti? E purtroppo è cambiato molto, perché alla mia epoca, quando si andava con la caravan, come potete vedere, là sotto, allora c'era più affinità tra di noi. Ora purtroppo il camperismo ha fatto quello che ha fatto nel mondo della famiglia e del cinema. ha creato degli elementi molto isolati. Per questo noi cerchiamo, con la nostra associazione, invece, di promuovere raduni che permettano agli iscritti di conoscersi fra di loro. Grazie, signor Presidente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti